Buongiorno, buongiorno e benvenuti all'appuntamento con lo spazio dedicato allo sport. Oggi giornata è importante perché si presenta alla stampa il nuovo direttore sportivo Nero Bonato alle ore 12, saremo in diretta quindi dalle 11.55 dalla sala stampa della Dacia Arena per questo primo atto ufficiale del nuovo responsabile dell'area tecnica che da oggi quindi ufficialmente inizierà a lavorare per preparare la squadra in vista del prossimo campionato le operazioni di mercato che naturalmente andranno avanti anche nel periodo di preparazione che scatterà il 4 luglio quindi siamo davvero agli sgoccioli del periodo di vacanza perché lunedì la squadra si radunerà alla Dacia Arena per iniziare la preparazione con un programma che prevederà nella prima settimana due sedute al giorno ma sarà così naturalmente per tutto il periodo del ritiro precampionato che si terrà inizialmente al Bruseschi dal 4 al 19 luglio poi in una località che ancora non è stata ben definita ma lo sarà sicuramente nelle prossime ore per la seconda parte del ritiro che vedrà quindi la squadra allontanarsi dal Bruseschi per la conclusione della preparazione poi ci sarà ovviamente il ritorno in sede in attesa della prima gara ufficiale che sarà una gara di Coppa Italia detto questo andiamo a vedere i giornali di oggi naturalmente c'è molto molto spazio ancora e sarà così ovviamente fino al termine degli europei alla nazionale, nazionale che domani affronterà la Germania siamo la bestia nera della Germania e proprio su questo si concentrano i giornali e cioè su questo timore della Germania di affrontare l'Italia e sulla sicurezza della nostra nazionale di potersela giocare contro una squadra che oggettivamente dal punto di vista generale nei singoli come complesso e anche per i risultati che ha ottenuto negli ultimi anni è più forte ma abbiamo visto come l'Italia ha saputo sovvertire in questo europeo pronostici sfavorevoli contro il Belgio dato per favorito non solo nella gara con l'Italia ma anche per una vittoria dell'europeo tra le favorite per la vittoria dell'europeo contro la Spagna è una squadra senz'altro che non stiamo qui a presentarvi per quello che ha rappresentato negli ultimi anni del calcio europeo l'Italia le ha battute entrambe quindi può sicuramente giocarsi le sue chance le sue carte anche contro la forte Germania ma andiamo a leggere i giornali e cominciamo però come sempre dal messaggero dalle cose che ci riguardano più da vicino e cioè dall'Udinese intanto una buonissima notizia che arriva dal Napoli e cioè una notizia che non è arrivata dal Napoli una non notizia buona e cioè il Napoli non ha esercitato il riscatto di Zapata Zapata ha un contratto, è stato stipulato l'anno scorso per lui un contratto di prestito per due stagioni con la possibilità però da parte del Napoli di riportarlo a casa dopo una stagione con una penale da pagare all'Udinese ciò non è avvenuto quindi Duvan Zapata resta un giocatore dell'Udinese quindi inizierà la preparazione sarà uno dei punti di forza della squadra che è stata affidata quest'anno alle cure di Beppe Iachini attesissimo anche il nuovo allenatore in questa sua esperienza bianconera che inizierà lunedì 4 luglio per quanto riguarda gli europei diciamo anche che ieri si è aperta la serie dei quarti di finale e il Portogallo nonostante abbia sofferto contro la Polonia è passato ai rigori capo ai rigori per la Polonia Polonia che è stata tradita da Blasikowski che ha sbagliato il suo calcio di rigore partita che era finita 1-1 i gol erano stati segnati nei primi 33 minuti della partita poi sostanziale equilibrio Cristiano Ronaldo quindi raggiunge con la sua nazionale il traguardo delle semifinali e c'è anche il Tour de France che parte per il ciclismo Cimolai circa il Tris sulla ruota di Parigi si parla quindi anche di questo nel Messaggero Veneto di oggi andiamo sulle pagine dello sport per parlare della nazionale arrivare poi pian piano più avanti all'Udinese eccoci qui con il titolo sull'Italia un'Italia sorpresa per i tereschi Conte prova le alternative ipotesi d'Armian Sturaro resta favorito la formazione non è ancora decisa qui vediamo il gruppo degli azzurri che si allena con molti sorrisi sulle labbra la squadra è molto concentrata ma anche serena perché ha fatto davvero finora un gran cammino sa di poterse giocare le sue chance sa di essere in grado di lottare De Sciglio dice loro sono forti ma non insuperabili De Sciglio ha parlato ieri in conferenza stampa abbiamo anche trasmesso nel nostro telegiornale le dichiarazioni del laterale del Milan che sta disputando davvero un europeo alla grande la Germania risponde con Cross che dice niente timori sappiamo battervi e verrebbe da dire peccato che però non ci riuscite speriamo che rimarrà ancora la bestia nera della Germania la nostra Italia la cura Conte Eder Pellè e Compagni i rigenerati dal commissario tecnico è chiaro che anche loro Eder Pellè hanno fatto cose egregie finora la Marcord Boninsegna rivede lo spirito della Zeca e si torna sempre a quella famosa partita dei mondiali di Messico 1970 il famoso 4 a 3 che vide anche Boninsegna tra i protagonisti di quella partita che resta ancora oggi una delle partite più belle più emozionanti e più ricordate della storia del calcio in generale non solo delle due nazionali ma proprio della storia dei mondiali di calcio Conte è tentato dai polmoni di Darmian qui siamo ancora sulle ipotesi di formazione per la partita di domani è scappato il messaggero Veneto ma lo riprendiamo subito eccolo qui che arriva eccoci qui Conte è tentato dai polmoni di Darmian dicevamo Sturaro resta il favorito per la sostituzione di De Rossi il piano B prevede l'inserimento dell'esterno De Rossi si sta allenando tanto ha avuto qualche problema una forte contusione per lui il professor Castellacci il medico della nazionale aveva detto sappiamo che il tempo a disposizione per recuperare in questi casi non è lungo quindi faremo le nostre valutazioni e c'è però la possibilità che De Rossi possa farcela qui ci sono alcuni ballottaggi alcune possibili scelte di Antonio Conte Sturaro e Parolo con l'inserimento di Sturaro al centro al posto di De Rossi Parolo viene spostato in regia non viene tradito così il 3-5-2 classico che ci sta dando degli ottimi risultati la sorpresa può essere Darmian a blindare le corsie esterne con Desciglio e Giacchelini e Florenzi Trottolini in mezzo al campo quindi queste sono le possibilità ma ce ne sono ovviamente anche altre dicevamo di Cross che ostenta sicurezza dice con la Spagna mi ha stupito la vostra intraprendenza però non abbiamo paura perché sappiamo come battervi certamente la Germania si avvicinerà a questa partita con una carica emotiva assolutamente eccezionale visto appunto che c'è da sfatare questo tabù Italia ma l'Italia può sfruttare proprio per questo il fatto di essere tranquilla e magari portare a suo favore quella che è la smagna dei tedeschi che vogliono batterci per forza e quindi magari per strafare potranno commettere qualche errore loro sono fortissimi ha detto Desciglio ma non sono imbattibili il difensore del Milan ormai sembra inamovibile ma siamo 23 giocatori che valgono il commissario tecnico ci fa sentire tutti importanti poi c'è questa novità del rito di motivazione a cui i giocatori a turno chiaramente quelli più esperti si cimentano prima delle partite tra questi sicuramente c'è Gigi Buffon capitano della Juventus e capitano della Nazionale che si sta dimostrando ancora una volta il portiere più grande al mondo nella partita di domani avremo di fronte sicuramente i due portieri che in questo momento sono in assoluto i più forti in circolazione Neuer per la Germania e Buffon per l'Italia la BBC dietro è una garanzia BBC in questo caso l'abbiamo pronunciata all'inglese ma è BBC Bonucci Barzagli e Chiellini che è una garanzia queste sono le parole di Desciglio d'altronde non è un caso se vincono in Serie A da 5 anni di fila poi parla della cicatrice sul volto che è un ricordo dello scontro con Scholek e vuol dire che sarà come un tatuaggio che ha detto mi ricorderà le sofferenze che ho superato Desciglio ha avuto qualche problema anche al limite della depressione come lui stesso ha raccontato qualche settimana fa lo ha superato brillantemente Pelle ed è rinati dopo una primavera vissuta in panchina l'interista negli ultimi 8 turni ha giocato soltanto una volta a 90 minuti pensate che con l'Inter ed era assegnato soltanto un gol indovinate contro chi contro l'Udinese a Southampton il bomber azzurro non è titolare dal 9 aprile certamente le quotazioni di questi due calciatori sono in rialzo per il per il loro futuro anche nelle squadre di Klebe per eventuali anche operazioni di mercato abbiamo poi altre altre notizie e curiosità sulla sfida tra sulle sfide che si stanno tenendo in questo in questo momento e che si sono anche e c'è anche questa contrapposizione tra una tra chi ha vinto la Coppa America in questo caso il Cile che ha vinto la Coppa America del centenario e prende colpo l'ipotesi di una sfida con chi vincerà l'europeo e abbiamo ricevuto risposta positiva dall'UEFA studieremo una data lo ha scritto su Twitter il presidente del CONMEBOL Alejandro Dominguez il CONMEBOL è la federazione l'associazione delle federazioni che organizza la Coppa America diciamo così la UEFA delle Americhe boom di richieste alla RA per quanto riguarda i gadget dell'Islanda fa piacere che un'azienda italiana si stia distinguendo anche se non direttamente perché è chiaro che non scendono in campo quelli della RA però con l'Islanda che sta vincendo si sta portando avanti anche il nome della nostra Italia dal punto di vista del materiale sportivo Ranieri il flop inglese è inspiegabile parla all'allenatore che ha sovvertito tutti i pronostici con il suo Leicester dice all'Italia gli europei stanno facendo bene hanno l'allenatore bravissimo si vede che sono uniti e questo è importante Ranieri da ieri cittadino onorario di Catanzaro dove aveva giocato all'inizio della sua carriera sull'avventura della nazionale in Francia dice il calcio inglese sono 50 anni che non riesce a competere agli europei e mondiali e questo è inspiegabile anche perché soprattutto in questo momento dal punto di vista dei club la nazionale la nazionale inglese dovrebbe poter beneficiare di un calcio che è in fortissima in fortissima crescita ancora è già probabilmente il campionato più difficile con più stelle in campo in Europa purtroppo per loro naturalmente quando vanno a giocare competizioni internazionali con la casacca dell'Inghilterra le cose non vanno non vanno bene eppure i giocatori bravi ne hanno qui siamo sulla pagina dell'Udinese fin quando l'Europeo sarà in corso saranno ridotti gli spazi per l'Udinese anche sul Messaggero Veneto ma c'è spazio in questa pagina per parlare di Zapata che resta in bianco nero il suo futuro è stato deciso da un'email che il Napoli non ha inviato ieri per esercitare entro la mezzanotte per esercitare il riscatto pagando una penale di un milione all'Udinese e quindi resta resta da noi poi Pozzo punta ancora Kevin Lasagna attaccante in forza al Carpi nell'ultima stagione mentre ci sarebbe il diavolo su Zelinski e cioè il Milan dopo che il Liverpool sembra aver fatto marcia indietro perché non vorrebbe pagare il cartellino in base alla quotazione che l'Udinese dà di questo ragazzo una notizia che riguarda invece un ex collaboratore un ex allenatore vice allenatore di Stramaccioni qui a Udine cioè Dejan Stankovic che saluta l'Inter e dice esplorerò nuove frontiere aveva fatto il club manager l'anno scorso dopo l'esperienza di vice allenatore con Stramaccioni adesso si parla per lui di un possibile incarico nella federazione serba che già in passato lo aveva cercato per affidargli appunto un ruolo dirigenziale importante il nuovo allenatore del Milan sarà Montella Milan sfida Ardua ma realizza un sogno dice voleva giocare con la maglia rossonera non c'è mai riuscito ora il compito è quello di rilanciare il club dalla panchina Montella ha anche detto ho più esperienza adesso gestirò meglio questa opportunità gestirò bene più che meglio perché non ha avuto un'altra l'Atletico Madrid offre 60 milioni per Iguain non appena il fratello del Pipita ha rilasciato le dichiarazioni dicendo che Iguain non andrà via non spingerà per andare via ma non rinnoverà il contratto si sono scatenate le big europee che intravedono in questa dichiarazione la possibilità di una rottura tra l'argentino e il Napoli e la necessità anche del Napoli di monetizzare prima che sia troppo tardi cioè prima di perdere Iguain a parametro zero quando gli scade il contratto tanto l'Atletico però si cautela con le ipotesi Bacca, Icardi e Lukaku Ibrahimovic invece va allo United lo ha detto vado da Murigno per lui contratto di 12 milioni e mezzo netti annuale un contratto quindi in un solo anno per Ibrahimovic che ritrova e ritrova Murigno e insieme cercheranno di rilanciare il Manchester United che non viene da un periodo brillantissimo lasciamo il messaggero veneto andiamo sul gazzettino per leggere ancora di Udinese e poi andare sui quotidiani nazionali per quanto riguarda l'Udinese la notizia è quella di Zapata e insieme a Zapata il gazzettino mette anche Terò Terò per lui non c'era nessuna clausola nessun riscatto nessun in questo momento timore di un possibile addio e quindi Zapata e Terò con la conferma di Zapata può essere una coppia secondo il gazzettino da 30 gol a stagione il Napoli non si è ripreso la punta colombiana destinata a giocare titolare insieme al calciatore francese anche il gazzettino dà credito alla voce secondo cui all'Udinese piace ancora Kevin Lasagna mentre Panagiotis Coné a quanto pare ha rifiutato una proposta del Panathinaikos allenato da Andrea Stramaccioni Panathinaikos che sta preparando in Olanda l'esordio nei preliminari di Europa League sarà una prima importante barriera da superare per Stramaccioni che di recente ha rinnovato il contratto fino al 2018 intanto per tornare però all'Udinese ora si punta a cedere gli attaccanti di troppo vedremo cosa succederà come dicevamo il mercato sarà senz'altro in fermento fino a quando non chiuderanno i battenti e cioè alla fine di agosto addirittura ha campionato già iniziato quindi le rose delle squadre sono destinate ovviamente a cambiare fino a quel momento voglio subito soddisfazioni per i tifosi dice l'allenatore Beppe Iachini il gruppo è buono Conte è un modello queste le dichiarazioni di Beppe Iachini rilasciate a Udinese TV nella trasmissione Euro Social intervistato da Stefano Giovampietro prime parole dopo la conferenza stampa di presentazione Iachini è tornato a parlare ora mancano pochi giorni poche ore all'inizio della nuova stagione Iachini avrà anche naturalmente la possibilità di parlare alla stampa in questa fase di tiro all'inizio e poi periodicamente per fare il punto con i giornalisti qui siamo invece sulla pagina dedicata al Pordenone che si sta assolutamente rinforzando con calciatori che in questa categoria della Lega Pro possono fare la differenza uno di questi è Arma che porta in dote ben 83 gol aveva giocato nella Reggiana e adesso ha firmato un contratto biennale con il Pordenone ha fatto molti gol anche nel Pisa quindi è un giocatore che di questa categoria sicuramente è uno dei più importanti porta in dote 83 gol è fatta per Gerbaudo dalla Juventus Pordenone che continua quindi a rinforzarsi per riuscire a scalare la Lega Pro conquistare la Serie B che è sfuggita quest'anno dopo una stagione veramente esaltante affari in corso tra i ramari e il Cordenone questo per quanto riguarda il calcio di Serie D e della Lega Pro naturalmente intanto Zorzetto e Craviari si sentono già da Mian qui vediamo il presidente del Cordenone Angelo Abruzzese si è creato questo asse con il Pordenone che può essere utile ad entrambe le società il Pordenone ha in piedi molte molte collaborazioni con tanti club tra i quali anche l'Udinese come era stato annunciato qualche mese fa in un incontro tra il presidente Lovisa e il patron dell'Udinese Gian Paolo Pozzo collaborazione che non può che far bene ad entrambe le squadre non può che far bene allo sport del territorio ricordiamo anche che l'Udinese aveva offerto al Pordenone la possibilità di giocare i playoff o promozioni alla Dacia Arena soprattutto nel caso in cui i ramari avessero raggiunto la finalissima per avere quindi un maggior supporto di pubblico e perché no anche la spinta eventualmente dei tifosi dell'Udinese per i vicini ramari che sarebbero giocati la Serie B non è andata così purtroppo perché il Pordenone ha perso contro il Pisa che poi ha vinto i playoff ed è quindi stato promosso in Serie B ma come dicevamo il Pordenone ci proverà senz'altro il prossimo anno visto anche il mercato che sta facendo sarà una delle squadre che potrà lottare per la promozione nel campionato cadetto andiamo adesso sulle prime pagine dei quotidiani sportivi abbiamo la gazzetta dello sport che ci mostra anche un sorridente Dino Zoff Dino Zoff che ha definitivamente superato i problemi di salute che avevano fatto temere qualche mese fa davvero per il campionissimo per la salute del campionissimo che ha vinto il mondiale nell'82 ha vinto tantissimo con la Juventus ma ha giocato anche ha iniziato la sua carriera nell'Udinese lui Friulano che ha vinto ha vinto tantissimo parla ha allenato anche la nazionale e parla proprio di questa partita contro la Germania lui che la Germania l'ha battuta nella finalissima dell'82 al Bernabeu esclusivo il mitico portiere ritorno in campo Zoff Gigi vieni a prendermi vieni a prendermi è una sfida è un auspicio anche perché quanto a trofei vinti se Buffon dovesse vincere l'Europeo andrebbe a prendere Zoff nel numero dei trofei in Palmares qui lo vediamo davvero sorridente con un pallone in mano Zoff che si sta allenando tantissimo in palestra proprio per recuperare anche dal punto di vista della forma atletica e fisica dal dal problema di salute che lo aveva lo aveva davvero conciato male Dino è di nuovo in forma e legge la super sfida di domani con la Germania se fanno i tedeschi vinciamo noi per quanto riguarda Buffon dice bravissimo deve farne di strada per raggiungermi ma se vince anche l'Europeo si può avvicinare può continuare un auspicio più che altro Zoff sarebbe volentieri sarebbe contento di vedere Buffon superarlo quanto a trofei quanto a successi perché ciò vorrebbe dire per l'Italia ancora una coppa in bacheca la grinta di De Rossi in questa foto c'è tutta la voglia del centrocampista della Roma di esserci in campo contro la Germania nonostante problemi fisici che lo hanno rallentato ma come leggeremo qui sulla gazzetta De Rossi si è allenato tantissimo per essere pronto intanto Sturaro è alla finestra ma De Rossi prova a farcela il romanista ci crede e si è allenato più dei compagni Conte deciderà soltanto oggi che cosa fare ma è probabile che per De Rossi possa esserci spazio dal primo minuto in ogni caso potrà essere nel caso dovesse decidere per Sturaro e quindi per andare sul sicuro dal punto di vista delle condizioni fisiche dei giocatori da mandare in campo De Rossi potrebbe essere senz'altro però una penina da giocarsi successivamente i nostri rivali Neuer dice attacchiamo questa Italia dall'inizio il numero uno della Germania dice dovremo sfruttare le sue debolezze spero sia stanca poi c'è l'hashtag mettiamola tutti e hanno pubblicato sui social una foto con la maglia azzurra anche gli stilisti Dolce e Gabbana Stefano Gabbana e Domenico Dolce in maglia azzurra anche loro in questo momento hanno aderito all'appello di Antonio Conte e con l'hashtag mettiamola tutti anche loro hanno pubblicato la foto che viene ripresa dalla gazzetta in prima pagina poi c'è un intervento di Beppe Bergomi abbiamo due campioni del mondo tre campioni del mondo in questa prima pagina Zoff nell'82 insieme a Bergomi che qui cura l'intervento sulla gazzetta e poi De Rossi che abbiamo visto su che ha vinto il mondiale nel 2006 Jack Alaconti Bonucci Scirea si sente dire negli ultimi giorni che questa Italia targata Conte ricordi quella mondiale dell'82 prima di addentrarmi nello specifico dice Bergomi faccio una riflessione generale che anticipa il discorso trovare similitudini tra questo calcio e quello di 34 anni fa è impossibile ed è naturalmente una dichiarazione che condividiamo è un calcio diverso ma alla fine si può fare senza altro una similitudine non dal punto di vista tecnico sulle partite che vediamo oggi ma dal punto di vista delle sensazioni e delle emozioni che stiamo vivendo calcio mercato Ibrahimovic ritrova a Murigno sì vado allo United finalmente dopo aver scherzato lui e aver scherzato anche il suo procuratore Raiola si svela il segreto di Pulcinella oppure si scopre l'acqua calda che dir si voglia e Ibrahimovic ritrova a Murigno vado allo United ma lo si sapeva già da parecchio tempo contratto annuale di 12 milioni e mezzo netti e se ne va intanto la bandiera Giggs dal Manchester United Montella da piccolo sognavo il Milan ma Galliani non mi ha preso lo ha fatto ora ho più esperienza la gestirò meglio ed ancora sul mercato Herrera la risposta del Napoli a Higuain l'accordo con il Porto per il messicano è molto vicino c'è però un'offerta dell'Atletico per il Pipita cosa che abbiamo visto anche su un messaggero mezzo offerta di 60 milioni con una clausola di 94 milioni è probabile che chi vuol prendere Higuain senza pagare la clausola dovrà comunque sensibilmente alzare l'asticella aprire di più i cordoni della borsa l'Inter invece su Jesus è un segnale come ci eravamo lasciati scrive Carlo Laudisa con un Inter che si candida vista la nuova proprietà ad essere protagonista sul mercato si ricomincia però allo stesso modo con la Juve che è padrona della scena ed è iperattiva l'Inter all'inseguimento la scadenza del primo luglio è più sbiadita che in passato considerando che l'europeo toglie verba al mercato di prima fascia molti aspettano che a Parigi cali il sipario ed è proprio così c'è sicuramente meno movimento durante gli europei il tutto comincerà a muoversi in maniera frenetica quando a Parigi calderà il sipario ma direi anche già dalla prossima settimana quando saranno delineate le semifinaliste quando si arriverà quindi ad un minore impegno di partite in campo con squadre il cui valore sarà noto ma si potrà fare un'analisi su quello che si è visto fino a quel momento e magari muovere il mercato anche in funzione di calciatori che sono stati notati ad occhiati nel corso della Kermesse europea andiamo a vedere le prime di Tutto Sport e Corriere dello Sport cominciamo dal quotidiano di Torino che parla del mercato della Juventus volete cantè dateci le minà il Leicester il club di Claudio Ranieri dice siamo disposti a cedere il mediano alla Juventus ma Marotta deve accettare il sacrificio del giovane francese che nella Juventus ha fatto molto bene ritagliandosi uno spazio importante nell'ultima stagione che ha visto la Juve rimontare il Napoli e poi vincere lo scudetto Conte il vero tedesco Paolo Villaggio gioca con ironia la grande sfida di domani tra Italia e Germania il CT come il professor Kranz Low come il ragioniere Filini i nostri avversari fanno gli spavaldi perché dovremmo temervi Portogallo in semifinale ai rigori con la Polonia che finisce fuori dopo comunque aver giocato un ottimo europeo mercato frenetico sull'asse Milano-Torino con Inter e Toro che discutono di Lijac che dice Ni e il Torino cosa fai cosa fai Toro lo aspetti scrive il tutto sport il serbo tiene sulla corda la Roma e congeda le aspettative Granata Mijajlovic però puntini sospensivi Castellazzi nuovo team manager vediamo le partite dell'estate insomma anche in questo caso c'è un po' di fermento ma si va con calma si procede con molta calma sul fronte dell'operazione di mercato Corriere dello sport sua altezza Pelle attaccante che con il suo gol nel finale di Italia-Spagna ha chiuso la pratica regalando tranquillità e soprattutto il successo per 2-0 contro gli spagnoli domani la super sfida dei quarti l'azzurro alto 1,94 è un record tra chi va in campo guida l'assalto alla Germania mondiale si pensa anche quindi alla parte strettamente del duello fisico abbiamo visto prima lo sguardo la grinta gli occhi della tigre di De Rossi sulla Gazzetta dello Sport facciamo notare anche lo sguardo di Pelle anche per lui si può parlare di occhi della tigre quindi concentratissimo anche lui sull'avventura europea che lo sta rilanciando a livello generale aumenta la tensione a Napoli con il Napoli che alza il muro ma Iguain apre l'asta come dicevamo le dichiarazioni del fratello del Pipita subito dopo la conclusione della Coppa America hanno riacceso le speranze di chi vuole prendere Iguain il fratello ha detto Gonzalo ama i tifosi ma il progetto di squadra competitiva non decolla e quindi non rinnoveremo il contratto chiusura vicina Gabriel Jesus stretta finale l'Inter va in Brasile per chiudere poi per quanto riguarda il Milan anche qui sul Corriere dello Sport si parla del rilancio rossoniero che passa da Montella Montella che dice il mio sogno e aspetta Milik per quanto riguarda i rinforzi ed infine sull'europeo il rigore di Cristiano Ronaldo che calcia il primo rigore e lo segna la partita si era chiusa sull'1-1 dopo i supplementari Ronaldo questa volta non ha sbagliato il calcio di rigore aveva sbagliato già uno all'inizio di questo europeo e guardiamo che aveva segnato quello decisivo a Milano nella finalissima di Champions League derby di Madrid tra il Real e l'Atletico con grande freddezza e con grande freddezza è realizzato il primo rigore che dà il via al Portogallo che ha dato il via alla Serie e poi il successo al Portogallo che raggiunge la semifinale e allora noi chiudiamo la nostra rassegna stampa e come stiamo facendo ogni mattina in questo periodo di City Camp vi lasciamo al servizio che ci mostra come i bambini si divertono al Bruseschi quotidianamente con i nostri allenatori i nostri istruttori in questa terza settimana di City Camp che si chiuderà sabato con la giornata finale della consegna di diplomi e medaglie approfitto per dire anche che ci sarà poi una piccola coda per quanto riguarda l'impegno dell'Udinese di Udinese per la vita in particolare con i bambini con i giovani perché domenica mattina dalle 10 a mezzogiorno al Parco Moretti si aprirà la stagione dello sport del calcetto in particolare al Moretti con i campi gonfiabili donati da Udinese per la vita e Udinese per la vita organizza proprio un torneo di calcetto per i bambini riservato ai bambini nati tra il 2005 e il 2010 vi ringrazio per averci seguito City Camp poi torna Angela Caino per l'approfondimento di questa mattina arrivederci l'impegno la tua vita Grazie a tutti. Ora Alberto Pontoni ha appena finita una lunga sessione di colpi di testa, il caldo si fa sentire ma i ragazzi ci mettono tanto tanto entusiasmo. Sì, oggi è una temperatura già mattina alta però i ragazzi stanno mettendoci tutto e ci stanno divertendo. Oggi abbiamo imparato il gesto tecnico del colpo di testa e loro ci hanno messo l'impegno a impararlo bene. È davvero importante perché sono bambini che ovviamente arrivano da scuole calcio diverse e qui toccano con mano il livello massimo del calcio in regione. Cosa cercate di dargli? Quali consigli per farli crescere? Ma certamente diamo i consigli di base per farli crescere e anche oggi nel gesto tecnico del colpo di testa siamo partiti con le basi, il posizionamento del corpo, delle braccia, della fronte, tutta questa roba qui per insegnarli dalle basi per poi portarli agli esercizi che avete visto prima sviluppati. Anche perché in una settimana ovviamente si può fare poco però già poi si vede il sabato quando ci sono tutti i genitori e loro sfoggiano quanto hanno imparato in questa settimana. Certamente, giorno per giorno vediamo anche i ragazzi la loro crescita e specialmente la loro attenzione ai nostri insegnamenti, alle nostre guide. A fine settimana li vediamo bene in campo che hanno già qualche gesto tecnico assorbito e lo stanno dimostrando. Calde, caldissime le temperature come al solito. Calde, caldissime queste temperature al Bruseschi anche se comunque c'è sempre un momento di riposo per riprendere l'energia, riprendere le forze per tutti i ragazzi di tutte le annate, dai più grandi ai 2003 fino ai più piccoli 2010 e si stanno rifocillando con una buona e salutare mela. Insomma, la proverbiale mela al giorno che toglie il medico di torno, ma non hanno bisogno di nient'altro questi bimbi che appunto di stare insieme per anche un po' chiacchierare all'ombra, ombra che è praticamente ricercatissima da tutti i ragazzi dopo questa prima sessione di allenamento di questo quarto giorno del terzo turno dei City Camp. Insomma, se facciamo un po' di calcoli alla mano, manca poco, mancano due giorni alla conclusione dell'intero percorso, come al solito eccezionale, organizzato benissimo dall'Udinese Calcio degli Udinese City Camp. Abbiamo sentito davvero tantissime testimonianze dei tanti allenatori, dei tanti efficienti preparatori che sono stati messi a disposizione dei 150 partecipanti per ogni turno, quindi insomma quasi 500 bambini che sono cresciuti tantissimo in questa esperienza formativa. Come detto si arriverà a sabato, che è il giorno finale, un giorno che coinciderà anche con una partita dell'Italia abbastanza importante, ne abbiamo parlato anche ieri con i ragazzi e poi ci sarà la domenica di riposo per quanto riguarda il Bruseschi, il 4 si inizierà con la prima squadra, questo a far capire la continuità che c'è tra il progetto dell'Udinese City Camp e l'Udinese Calcio vera e propria perché sono gli stessi campi di allenamento, le stesse strutture, ovviamente con la stessa passione. L'Udinese ricomincerà una nuova stagione così come i bambini hanno messo davvero tanto entusiasmo in questa lunga avventura. dei City Camp che si sta per concludere anche per questo suo terzo turno. Grazie.